Ciao ragazzi Oggi Sto molto male perché E' successa una cosa Cioè che per molti di voi sembrerà Una cazzata Per me invece Non lo è O anche per molti di voi se mi capiranno Poi molti di voi pensare che sia una cazzata Comunque Pensate a quello che volete Fino a due o tre giorni fa Io e la mia ragazza Messaggiavamo normalmente Uscivamo normalmente Penso da Una coppia normale Come fanno tutti Beh ieri mattina Precisamente alle 8.34 La mia ex ragazza Mi manda un messaggio Con scritto Basta è finita non voglio più vederti Cioè io Io non capisco la normalità delle persone Cioè devono solo Bruciare queste persone Cioè non capisco che Cioè io dico no Dammi un motivo Dimmi un'altra faccia Ci sta che uno non è più Cioè non gli piace più O succedono cose normalissime No lei su whatsapp mi dice Tutto questo Finita poi Cosa fa? Mi blocca Mi blocca Mi blocca da facebook Da whatsapp Da tutto Cioè non mi vuole più vedere Non so neanche il cazzo fatto Sto sempre a casa Gioco alla play Se esco Esco con lei Vado solo a giocare a calcio Perché gioca a calcio Gioca a calcio Sto a casa Gioco alla play E sto con lei Non capisco che cazzo ho fatto di male Non esco neanche mai Cioè da un mese a questa parte Che non esco più Vabbè comunque vi volevo dire Cioè mettete mi piace questo video Se volete Condividetelo E chi vuole farsi sentire Cioè nel senso di chi mi vuole scrivere Chi pensa che sono un bel ragazzo E magari mi vuole conoscere Io sono disposto A scrivere anche io E rispondo a tutte Però mettete mi piace E così Però ragazzi sto male Consolatemi Perché sto veramente male Lo so che da questi problemi Bisogna tirarsi fuori Cioè ci bisogna tirare fuori Però Cioè Subito al momento Non è mica facilissimo Dai un bacio ragazzi Cioè Grazie.